Allora, mister, un punto che però dice tanto, perché è stata una partita dove c'è stato tanto Parma, la prestazione oggi c'è stata. Assolutamente, sì, credo che c'è da essere contenti, anche se dopo un pareggio, tante volte, soprattutto con una prestazione del genere, fai un po' di fatica ad essere contento, però noi dobbiamo analizzare la prestazione, la prestazione è stata ottima, è stata buona, ma, logicamente, ci sono margini di crescita, però credo che l'atteggiamento di stasera è quello che ci deve essere sempre. Ecco, forse anche il gol ha determinato questo atteggiamento, vedere una squadra che dal terzino sinistro serve il terzino destro, che è avanzato e segna, è un po' anche quello che si cerca anche in campo. Sì, sì, assolutamente, è quello che si cerca in campo, ma credo che la prestazione di stasera sia stata importante, anche perché comunque venivamo da due sconfitte e siamo andati anche sotto. Credo che la squadra abbia reagito benissimo e non era facile. Ecco, è stata partita vera sotto tutti i fronti, dal tifo sugli spalti a comunque una capolista che è rodata da quattro anni con lo stesso allenatore. Il Parma ha dato segnali positivi? Sì, sì. Abbiamo dato segnali positivi, anche perché credo che comunque sia stata giocata anche una buona gara a livello tecnico, cioè la squadra ha giocato, ha provato sempre a giocare ed è quello che gli si chiede dall'inizio. Tante volte nelle ultime due gare siamo ricorsi a qualche palla lunga, ma perché era cambiata un po' la gara, l'atteggiamento della squadra, però stasera penso che la prestazione sia stata buona anche da quel punto di vista. Grazie. Grazie.